Circa 500 mila euro è l'importo della multa che dovrà pagare la compagnia italiana di navigazione, meglio conosciuta col marchio Mobi, per aver utilizzato navi diverse da quelle previste dal contratto stipulato col Ministero nella gestione della continuità territoriale tra la Sardegna e il continente. Il Consiglio di Stato ha infatti rigettato i ricorsi contro una serie di sanzioni che erano state combinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla compagnia di navigazione, alla quale era stato contestato di aver usato nell'anno 2018 per le tratte Civitavecchia-Olbia e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax dei traghetti con caratteristiche diverse da quelle indicate nel contratto. L'anticipazione è arrivata attraverso il magazine specializzato Shipping Italy, che riporta anche alcuni passaggi del dispositivo della sentenza. Nell'articolo si ricorda che il massimo tribunale amministrativo ha rigettato quattro ricorsi della società appartenente al gruppo guidato dalla famiglia Onorato, titolare tra il 2012 e il 2021 della Convenzione con lo Stato per il Servizio di Continuità Territoriale Marittima per un importo di circa 72 milioni di euro l'anno, volti ad annullare le sentenze del TAR del Lazio del giugno 2020, che avevano confermato le sanzioni combinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'autunno 2018. Le sanzioni, come detto, erano conseguenti alle contestazioni riguardanti l'utilizzo di navi aventi caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal contratto, che determinavano la fornitura di un servizio di livello inferiore rispetto a quello pagato dallo Stato. E il fatto che non vi sia stato pregiudizio per l'utenza o che non vi siano stati reclami da parte di privati o degli enti locali interessati per i giudici del Consiglio di Stato rappresenta una circostanza del tutto irrilevante. Peraltro non è detto che la situazione non si riproponga. Proprio qualche settimana fa, sempre contro il servizio assicurato dalla compagnia in una traversata Sardegna-Continente, era arrivata la denuncia finita sulle cronache nazionali di una coppia di civita vecchia.